Thomas Pesquet è cittadino francese e come tale domani dovrà esprimere la sua preferenza tra Emmanuel Macron e Marine Le Pen al ballottaggio delle presidenziali. Nulla di strano se non fosse che Pesquet dallo scorso novembre è un astronauta in missione sulla stazione orbitante ISS, ma non ha voluto mancare ad un appuntamento così importante per il suo paese. E' stato un po' complicato perché vivo all'estero, ma al consolato di Francoforte sono stati gentilissimi e quindi un collega francese ha la mia procura per consegnare il mio voto. Pesquet ovviamente non ha rivelato le sue intenzioni di voto, si è limitata a ribadire però l'importanza di recarsi alle urne, seppur dallo spazio di aver seguito tutta la campagna presidenziale.